Leonardo Silva Revisoree Io parto con una domanda. Il cibo può comunicare con il nostro DNA? E se comunica con il nostro DNA, può influenzare la salute? Pensiamo a una prima immagine, alle api. Abbiamo tre tipi di api, la poperaia, il fuco e la peregina. Tutte e tre hanno il medesimo DNA, il medesimo genoma. Ma la peregina è stata nutrita dalla larva con un cibo, un cibo diverso, la pappa reale. E, come vediamo, le dimensioni della peregina sono differenti. Ma non solo le dimensioni, la sua funzione è differente. È l'unica, all'interno dell'arnia, che si può riprodurre, che può dare origine a una nuova colonia. Allora, il cibo ha comunicato qualcosa al DNA, perché tutte hanno lo stesso DNA. E per capire questo, dobbiamo addentrarci nel mondo piccolo, nel nucleo delle nostre cellule, due micron, che racchiudono tre miliardi di basi, che è il nostro genoma, lungo circa due metri, molto impacchettato. Pensate che, alla fine degli anni 90, si pensava, con lo studio del genoma umano, che si avrebbero avuto grandi risposte, sia di comprensione delle malattie, ma anche di comprensione sul DNA. In realtà si è capito che eravamo solo all'inizio, perché solo il 2-3% del DNA codifica per una proteina e pertanto una funzione. Tutto il resto, e pensate, il 98%, è un DNA che all'epoca era considerato junk DNA, scusate il termine inglese, spazzatura, che serviva come backup per far sì che le mutazioni cadessero non sui geni. In realtà questo DNA, e si è scoperto che eravamo all'inizio di una nuova avventura, questo DNA era funzionale a regolare l'espressione dei geni. E come? Ci sono dei marcatori chimici sul DNA, delle bandierine, che durante lo sviluppo vengono poste sul DNA. E queste bandierine, che possono essere o dirette sul DNA, o sulle proteine che avvolgono il DNA, o addirittura su alcuni RNA, che sono lo stampo del DNA antisenso, vengono poste durante lo sviluppo affinché le cellule possano compiere la loro funzione. Pensate che noi abbiamo nelle nostre cellule, in ogni nostra cellula, lo stesso medesimo DNA, ma ogni cellula svolge una funzione differente. Perché? Perché esprime parti del DNA differente, grazie a queste bandierine, a questi marcatori, che dice a un gene tu devi essere espresso in questa cellula, devi far sì che questa cellula abbia questa funzione, e un'altra cellula un'altra. Per capire meglio, immaginiamo che il nostro DNA sia uno spartito orchestrale, e i geni siano gli strumenti. Se suonassero tutti insieme, non ci sarebbe un'armonia, non ci sarebbe una sinfonia, non ci sarebbe la musica, ci sarebbe solo rumore. In realtà ogni gene sa perfettamente, grazie a queste bandierine, a questi marker, quando entrare in funzione, quando suonare, quando stare zitto, se suonare forte, se suonare piano. Ecco, questa armonia si svolge in ogni secondo, ogni istante, all'interno delle nostre cellule. E c'è uno studio, uno studio estremamente interessante, fatto sui topi. Nella biologia si parte sempre da un modello sperimentale, spesso sono i topi. A due mamme, con la stessa genetica, è stata dotata a mangiare del cibo. A una mamma del cibo povero, povero di nutrienti, a un'altra mamma è stata dotata a mangiare un cibo ricco di nutrienti e soprattutto particolari nutrienti, vitamine. Il risultato è stato che i cuccioli di queste due mamme hanno avuto un fenotipo, cioè una manifestazione di quello che sono differente. Addirittura il colore del manto è cambiato, perché il cibo ha comunicato una cosa differente durante lo sviluppo di questi cuccioli a i geni. E allora pensiamo al cibo ai nostri giorni. Abbiamo su questo piccolo pianeta, come dice Edgar Morin, persone che muoiono di fame, persone che mangiano in eccesso, abbiamo spreco di cibo, abbiamo persone che si ammalano perché mangiano troppo, mangiano male, e abbiamo anche una situazione paradossale chiamata deserto nutrizionale. Io esco di casa e in dieci minuti non riesco a recuperare cibo ricco di vitamine, riesco a recuperare solo cibo cosiddetto, non mi piace il termine perché sul cibo bisogna sempre avere rispetto, cibo che ha solo calorie ma non ha nutriente essenziale. e la cosa più interessante è che l'ambiente, il cibo, i nostri di vita e anche le emozioni possono scrivere sul DNA e possono parlare col DNA. E questo scrivere può essere trasmesso, soprattutto se questo avviene durante i primi mille giorni di vita del bambino, dal concepimento al terzo anno di età, questa scrittura può passare anche da una generazione a un'altra. E c'è un'evidenza, un'evidenza storica di questo passaggio intergenerazionale di quanto l'ambiente e il cibo abbiano influenzato la salute delle generazioni successive. Questo è uno studio storico avvenuto in Olanda. Si è studiata una popolazione di 45 milioni di persone olandesi che durante la Seconda Guerra Mondiale fu confinata in una zona molto ristretta dell'Olanda, era inverno. Da una parte c'erano le truppe tedesche, dall'altra parte i canali ghiacciati. Questa popolazione visse per nove mesi circa, mangiando pochissimo di stenti. Arrivarono addirittura a mangiare, pensate, i bulbi dei tulipani. E si calcolò che mangiarono circa 500 kcal al giorno. Si sono studiate i bambini nati dalle mamme che durante quel periodo erano in gravidanza e li aspettavano. E questi bambini hanno mantenuto la programmazione delle loro mamme. Le loro mamme avevano vissuto senza cibo e quando sono nati questi bimbi erano programmati a resistere all'assenza di cibo. Guerra poi è finita, hanno avuto accesso a cibo e questi bimbi sono stati più esposti a una vulnerabilità sanitaria, più esposti a diabete, obesità, sovrappeso, malattie cardiovascolari e anche tumori. E questa vulnerabilità, questo aumento di rischio, si è anche ripresentato nella seconda e adesso si sta studiando la terza generazione. Allora dobbiamo pensare dal piccolo perché il piccolo ci possa suggerire delle azioni da fare nel grande per migliorare la società e per migliorare anche l'aspettativa di salute della nostra società e ripensare all'origine delle malattie e dal modo migliore di promuovere la salute. Portare la scienza del piccolo, questi meccanismi meravigliosi che avvengono nelle nostre cellule, nelle scelte grandi e investire soprattutto sulle classi che hanno meno consapevolezza di tutto questo, che hanno accesso a cibo povero perché costa poco, perché hanno magari un basso reddito, perché magari hanno anche una bassa scolarizzazione che non li può far accedere a questi tipi di messaggi, soprattutto investire nelle mamme. perché il diritto alla salute, anche sancito dalla Costituzione, sia un diritto anche di giustizia intergenerazionale. Noi dobbiamo pensare alla nostra salute, bene prezioso, ma pensare anche a poterla trasmettere alle generazioni successive. E allora dobbiamo un po' risvegliarci. Questo è il mio risveglio. C'è un'origine che pone una vulnerabilità maggiore alle malattie. Importante sono i primi mille giorni di vita del bambino e c'è forse, e questa è una domanda che mi faccio sempre, un'evoluzione silenziosa che porta una società ad avere una prospettiva di salute diversa rispetto a un'altra, perché c'è un accesso al cibo differente e questa evoluzione continuerà. Per fortuna può essere reversibile se le condizioni cambiano e se il cibo che ovviamente mangia la mamma, mangiamo noi, cambia. Allora, se è vero che è importante per la salute dei nascituri e anche delle generazioni successive l'ambiente e il cibo che mangia la mamma, allora dobbiamo curare il cibo e tutto ciò che è l'ambiente attorno alle mamme, attorno a quelle che sono le nuove vite. Allora dobbiamo pensare ogni momento in cui una persona mangia e curare questo momento, che può essere l'ospedale. Non possiamo tralasciare e lasciare che il cibo diventi solo un servizio alberghiero. Il cibo deve trasmettere dei valori, deve essere importante e trasmettere anche salute. Alle scuole, dove tanti genitori sono più preoccupati se i bambini non mangiano, ma mai si preoccupano se il bambino mangia male. Sempre la preoccupazione è che il mio figlio non mangia. Ma preoccupiamoci cosa mangia, preoccupiamoci se quello che mangia è importante per la sua salute. E poi ci sono le aziende. In ogni momento, ma anche tra amici, un marketing della salute che può essere anche trasversale nella società. Pensiamo, in ogni momento in cui si mangia, quanto possiamo comunicare attraverso un cibo per essere sempre buono, ma anche funzionale, alla salute. Perché il cibo è un'interconnessione dal nostro passato al nostro presente, ma anche al nostro futuro. Ci interconnette con la terra, perché il cibo è lavoro, viene prodotto, viene trasformato, dobbiamo avere grande rispetto. Con gli esseri viventi, con l'ambiente. Diceva una grande agronoma inglese che la salute dell'uomo, degli animali, della terra, dell'acqua e dell'aria è unica e indivisibile. E poi pensiamo, noi ci nutriamo di molecole, che sono i carboidrati, dove il carbonio è in uno stato chimico di legame ad alta energia. E questo legame ad alta energia lo ricava da che cosa? Dalle piante. Perché le piante, invece, trasformano, grazie all'energia solare, una molecola di carbonio, che ha un legame a bassa energia, il CO2 con l'ossigeno, ad alta energia. Per la proprietà transitiva, noi possiamo dire che mangiamo grazie all'energia del sole. Proprio dobbiamo rispettare questo tipo di ambiente intorno a noi. Ci ricollega in interconnessione con noi stessi, con la nostra storia. Pensiamo ai profumi, profumi che ci evocano delle emozioni, profumi della cucina della nonna, pensiamo Proust, le Madeleine. Pensiamo a quanto il cibo lega la tradizione, la storia. Ed è parte del nostro passato, ma è parte anche del nostro futuro. Ed è parte anche di quello che possiamo trasmettere alle generazioni successive. A volte, invece, si mangiano anche cibi standard, con dei profumi standard, dei sapori standard. E questo, penso, sia un avvilimento anche di quello che è un nostro organo di senso, perché abbiamo cinque organi di senso. E l'organo di senso del gusto è un organo meraviglioso. Abbiamo, attraverso il gusto, cinque gusti, ma attraverso l'organo vomeronasale, e lo è fatto, milioni di possibilità di apprezzare sapori e profumi. A volte il cibo industriale, molto processato, è un cibo che è sempre lo stesso, sempre uguale. E dobbiamo investire nella cultura del cibo, che è una cultura che è diversa dalla prevenzione, però possono avere davvero dei link in comune. E poi nutrire è il primo atto che svolge la mamma, nutrire amare, un cibo che nutre è un cibo che ama. E poi, ovviamente, le nostre tradizioni, le nostre tradizioni che fanno sì che ci sia un quotidiano più frugale, ma sempre buono, è una festa che dobbiamo aspettare e attendere per poter condividere un cibo più ricco con i nostri cari. E allora, l'epigenetica che cos'è? Da epi greco sopra il DNA, tutte queste modifiche sopra il DNA, è un ponte che lega l'ambiente, ahimè anche l'inquinamento, le emozioni, il cibo, il cibo che è un po' tutto questo al nostro DNA. Pensavamo che il DNA fosse un codice mutabile, alto, basso, occhi azzurri, occhi neri. In realtà abbiamo capito, attraverso questi ultimi studi, che sono poi così recenti, per ormai 15 anni che si studia in questo senso, che possiamo avere un dialogo con il DNA e possiamo anche trasmettere la nostra storia alle generazioni successive per, io penso, una prospettiva di salute più equa e uguale per tutti, e per permettere alle nuove generazioni di avere anche meno vulnerabilità a determinate malattie. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.